Carissimi, vi annuncio una bellissima notizia giovedì sera in diretta su BioBlu dalle 20.30 durante la trasmissione L'Ora della Verità. Finalmente potrò parlare e annuncerò il titolo e l'argomento del nuovo libro che uscirà contestualmente proprio in questi stessi giorni. Quindi dopo tutti questi mesi o comunque tutto questo tempo trascorso a mantenere il più forte riservo nei confronti di un argomento che è particolarmente scabroso e che non volevo in nessun modo che potesse essere occultato e in questo modo potesse comportare un boicottaggio del lavoro che ho fatto, questo argomento finalmente salterà fuori. È di nuovo una forma di tempismo notevole che mi contraddistingue l'ennesima volta anche se non voglio tirarmela troppo perché proprio in questo momento sta per venire fuori, cominciano le prime voci rispetto a questo tema così terribile, così delicato. Proprio adesso il libro esce e credo che questo tema esploderà. Quindi l'appuntamento è per tutti giovedì, giovedì sera, 27 aprile alle ore 20 e 30, dalle 20 e 30 in poi la trasmissione è quella di E l'ora della verità su BioBlu e in diretta finalmente sveleremo il titolo e l'argomento del mio nuovo libro. Buona serata a tutti. Ciao.